Buongiorno a tutti e benvenuti a una neva dei gioi in home movie. Insadisse e tronchiocco i gioi in Sudafik della nostra bella Val di Fassa. In che ne farà vedere il percorso che vanderà a telegare giade internazionali e ne lascerà con zecche de mui e gustegol. La nostra attività è partita da 15 anni fa, da una decisione tolta a unanimità da tutto il distretto. E tutti i comandanti è partito con l'idea che da tutti condivisa che l'attività dei gioi in la porta del seguro del buono è una roba sana per tutti i pomperi. Anche con Dio ho preso a PEC una quarantina, 35-40 arleves, che ogni gruppo ha avuto l'iscrizione e probabilmente per tutt'ora ho avuto una settantina, 60-70 arleves. Sono molto contento di quello che stiamo a questo giorno, il responsabile di ogni paese, il responsabile del Val. Abbiamo fatto molte attività, attività che vanno fuori dal Val a livello provinciale, che stanno in esigenza alle Olimpiadi internazionali. e ho l'Aki Arzont con la squadra del Trentino che rappresentano l'Italia, e il sesto post che è il miglior post mai Arzont dall'Italia delle Olimpiadi internazionali a livello mondiale. Mi sono stato veramente bello in Slovenia. e posso ringraziare Mattia e Giovanni, che fossero i miei istruttori del Corpo di Pozza, e mi piaciò veramente, è stata una bella esperienza. Sono stato in Slovenia, con la via hanno fatto delle gare del CTF, ora che hanno fatto 42 nazioni. e mi sono stato molto bene, perché ho visto molte diverse divise, molte cose sbagliate dalle nostre, modi di fare diversi dalle nostre, anche modi di vivere, possiamo dire. C'è... E' attacca fare il studio da feca in terza media, perché quando mi fai fare il studio da feca, e quando ho visto che il partito, perché io sono al BIP, mi piaceva, allora pensavo, invece io a provare. Gli allievi facciano le cose che facciano con i pompieri a sgregne, ogni tanto si è scherzo, ogni tanto si è essente, e si tira in alto. In grande velpaia d'Uskisbech, per il che richiede mette si appassione, e dove aspetti la settimana che vengi... A presto!